Sono stati pubblicati sulla piattaforma informatica i concorsi di progettazione per il recupero della ferrovia di Smessa dalla stazione di San Severo all'ex stazione di Apricena Superiore e per il recupero della ex caserma dei Vigili del Fuoco per realizzare un polo scolastico per le arti. Sulla piattaforma concorsi del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori concesse in uso alla provincia di Foggia è stato pubblicato il bando aperto da architetti ed ingegneri iscritti e relativi albi professionali al fine di delineare un nuovo assetto per il recupero della ferrovia di Smessa della stazione di San Severo all'ex stazione di Apricena. La formula è quella del concorso di progettazione in due gradi con procedura aperta.